ciao nella lezione dell'altra volta abbiamo visto tante piccole cose per salvare le impostazioni del nostro pennello nella modalità draw adesso torniamo di nuovo a cd animation e finiamo di vedere gli ultimi strumenti per disegnare che abbiamo a disposizione che sono tutti questi che ancora abbiamo visto solo di sfuggita quindi per dare un senso magari cominciamo prima a schizzare qualcosa che possa aver senso ripassare facciamo un disegno a matita uno schizzo di qualcosina che che contenga delle curve un un'automobile può essere un ottimo esempio per cominciare ad avere qualcosa con delle curve adesso magari qua mi fermo e mando avanti il video in maniera tale da non farvi perdere tempo con questo disegno allora riprendendo il video adesso io mi fermo volevo semplicemente realizzare intanto uno schizzo per farvi vedere quanto è immediato anche aprire blender e cominciare a buttare giù le proprie idee il problema dei programmi 3d spesso è l'elevata macchinosità di tutto quello che si deve fare per realizzare qualcosa mentre qui invece vedete non ho proprio toccato alcuno strumento avevo una tela bianca ho cominciato a disegnarsi sopra direttamente con la penna e con il premendo control sulla tastiera ho potuto cancellare certo disegno appunto anche realizzato eccessivamente in fretta però proprio io voglio mostrarvi come il blender ci possa permettere di essere naturali altrettanto quanto con un foglio di carta una penna e in situazioni del tutto semplici senza affaticarci con grandi cose da imparare da capire allora ho voluto realizzare questo disegno semplicemente per avere un po di linee curve e dritte sulle quali cominciare a ragionare adesso questo è uno schizzo cominciamo a usare tutti questi strumenti per dargli una forma migliore allora i materiali li conosciamo la prima cosa che posso fare è duplicare questo materiale nero e crearne una copia per perché perché voglio modificarlo quindi questo per me non sarà più nero lo chiamo matita anzi chiamiamolo schizzo e invece che nero voglio cambiare di colore e lo cambio in un colore blu più chiaro e in questo modo potrò ricalcarlo senza grossi problemi lo trovo appunto più facile da vedere anzi schiariamolo ancora un pochettino ecco ora ho di nuovo bisogno di riutilizzare il nero cosa faccio premo più per creare un nuovo slot oppure anzi visto che il rosso non lo uso posso spostarmi sul slot del rosso e riciclare lo slot per metterci il nero tanto il rosso non lo userò cominciamo a vedere questi strumenti allora questo è lo strumento linea lo strumento linea comunque ha le caratteristiche vedete che c'è scritto pencil quindi erediterà diciamo le caratteristiche di raggio di forza dello strumento che ho in mano in questo momento come funziona lo strumento linea è sufficiente trascinare sulla tela una linea e a questo punto mi appare un anteprima di quello che sarà il mio tratto se mi piace premo il tasto centrale e la linea viene confermata se invece non mi piace premo il tasto destro e viene eliminata come al solito magari attiviamo i tasti a schermo perché possiate vedere facilmente quindi posso andare a tracciare le linee dritte che voglio molto facilmente posso confermare anche con invio se non mi va di usare il tasto centrale e allo stesso modo posso annullare con esc quindi come vedete adesso questa riga è grigia perché perché sto usando lo strumento matita che ha strength 06 annullo questi due segni e prendo una penna prendo una penna e trascino vedete che è più grosso perché il raggio della penna è 60 allora annullo il segno che ho fatto scelgo 30 e trascino confermo con invio io mi trovo bene a confermare con invio se voi preferite il mouse utilizzate il mouse con questo strumento posso quindi tracciare delle righe dritte se le voglio tracciare più spesse come al solito f ingrandisco e posso tracciare una riga più spessa f rimpicciolisco anzi se voglio essere sicuro vado lassù scrivo di nuovo la misura di prima traccio e confermo ora nel momento in cui bisogna sempre confermare il segno vi chiederete come mai è una rottura di scatola in più allora perché perché se io traccio un segno nel momento in cui mi fermo sono ancora libero di spostare la parte iniziale la parte finale prendendo queste in questi due segna posto gialli quindi per quello che devo poi confermare perché finché sono libero di spostarli posso ancora fare quello che voglio quindi poi posso confermare e la riga viene bloccata al suo posto un'altra cosa interessante che che posso fare è di fare delle linee continue quindi se io traccio una riga dopodiché mentre sto ancora aspettando di confermare posso premere e sulla tastiera e e la mia riga viene continuata poi se confermo col tasto centrale fisso il lavoro fatto ricordatevi sempre che potete avere un promemoria di tutte queste funzioni qua sotto in questa barra qua sotto dove appaiono dei consigli su quello che si può fare quindi vedete in questo momento col tasto sinistro cliccando una volta select col tasto sinistro e trascinando forme col tasto centrale ruoto la vista col tasto destro mi viene un menu nel momento in cui comincio a disegnare guardate sotto e appare ask to cancel left mouse button per impostare l'origine invio oppure middle mouse button per confermare ruota del mouse in su in giù per regolare la quantità di suddivisioni shift per allineare alt per centrare e per estrudere la e che abbiamo appena cliccato quindi e vediamo un attimo le altri tasti quindi magari questa la confermo qui vedete poi quando ho confermato sono ancora libero di spostare l'ultimo punto quello shift tua line significa che se premo e mi sto muovendo primo shift e vengo bloccato a intervalli di 45 gradi può essere utile in certi casi per disegnare linee nette ora la invece continua sempre con la e non ho ancora confermato se usiamo il tasto alt invece vedete la linea viene tracciata dal centro quindi premo e alt e la mia linea si attacca lì al centro adesso non confermo premo il annulla e vediamo gli altri strumenti quindi questo era lo strumento linea questo è lo strumento poli line che di nuovo trascino col mouse e mi permette di fare una lunga linea ripetuta senza premere la e ogni volta alla fine premo invio e confermo quindi questa è una variante diciamo rispetto al precedente questo invece lo strumento curva lo strumento curva mi permette di tracciare linee curve posiziono il primo punto e quello finale e poi ho il punto centrale da poter spostare e anche qui con la e posso continuare il segno adesso qua ho sbagliato annullo quindi trascino muovo la linea centrale e confermo muovo la linea centrale quando sono contento confermo col tasto centrale trascino correggo e correggo e arrivo fin qua giù correggo no ho premuto la e di nuovo e quindi in questo momento non vi insegnerò come modificare i tratti già fatti nel senso che lo vedremo più avanti adesso annullo quest'ultimo segno mi è rimasto questo qui devo annullare tutto quanto sappiate che è possibile ovviamente modificare un segno già fatto lo vediamo con calma quando vedremo la modalità edit a ecco dove era finito il punto la sopra confermo di nuovo quindi questo è lo strumento curva questo è uno strumento curva con due punti di controllo adesso quindi posso quindi fare delle linee che hanno due punti di controllo quindi posso trascinare per esempio da qui fino a qui e avrò un punto di controllo qui è un altro lì e quindi posso creare delle curve a s facilmente e anche qui premendo la e posso andare a continuare la linea che sto facendo confermo con invio quindi i due punti di controllo servono a creare delle linee a forma di s quindi per esempio qua potrei farne una adesso non stavo ripassando esattamente il disegno che ho fatto comunque ecco qui questo è lo strumento linea lo strumento rettangolo parla abbastanza da solo è un quadrato in questa immagine magari non ne ho tanti da poter fare facciamo qualcosa sullo sfondo mettiamo qualcosa qua dietro posso tracciare un rettangolo e dopodiché sono ancora libero di spostare davanti e indietro e in questo caso può essere più utile il modificatore adesso confermo con invio il modificatore maiuscolo questa volta invece serve a obbligarmi a creare dei quadrati quindi se io premo maiuscolo obbligo i miei disegni a essere dei quadrati se invece non premo maiuscolo posso fare dei rettangoli e può essere utile alt qui perché se mentre sto trascinando premo alt il quadrato viene tracciato a partire dal centro quindi è un po' più facile controllare la posizione del quadrato perché o parto da un angolo o parto dal centro col tasto alt ovviamente possono anche mischiare le due cose quindi premere il tasto alt per partire dal centro e maiuscolo per obbligarlo ad essere un quadrato questo è lo strumento quadrato lo strumento cerchio ovviamente funziona come lo strumento quadrato vedete qua è utile poter partire dal centro e bloccare in maniera che questo sia un cerchio per forza quindi faccio la stessa cosa confermo trascino alt maiuscolo confermo confermo quindi abbiamo visto questi principali strumenti nella loro versione più semplice ci permettono quindi facilmente di realizzare tutte le linee curve e o le linee nette che vogliamo e magari appunto di avere maggior controllo rispetto a quello che può essere il lo strumento a mano libera perché con lo strumento a mano libera ovviamente bisogna disegnare a mano queste linee sono del tutto senza senza differenza di spessore sono poco comunicative non hanno uno spessore che cambia però ovviamente possiamo farlo se io adesso faccio delle curve disegnate a mano mi permette di modulare il mio segno con maggior bellezza adesso devo alzare la dimensione per adeguarmi a questo e ovviamente sapete che posso come abbiamo visto l'altra volta che posso sempre andare ad aumentare sia lo smooth che lo smooth in post processing e magari adesso lo metto proprio al massimo queste cose le abbiamo viste l'altra volta per disegnare cose del genere è utilissimo avere il segno a mano libera che viene corretto e appunto come vedete l'espressività del segno a mano libera è migliore di quello fatto con le curve però rimane il problema se non abbiamo una mano ferma o non abbiamo un un quando traccio una linea vedete che la linea ha un inizio e una fine puntuti confermo con l'invio se avessi se con la e trascinasse un'altra linea l'inizio e la fine del segno completo hanno questa punta questa punta deriva da questa impostazione se la tolgo come vedete non c'è e questa impostazione è personalizzabile dovete interpretare questa curva come da sinistra a destra la lunghezza del vostro segno e dal basso in alto lo spessore quindi vedete in questo momento si dice all'inizio il segno deve avere uno spessore bassissimo al centro uno spessore molto alto e alla fine uno spessore molto basso se io cambio questa curva e per esempio spostando questo punto la porto così e vado adesso a tracciare una linea vedete che la parte iniziale è più grossa perché appunto il profilo di spessore è questo se io facessi un profilo di spessore così gli direi che all'inizio deve avere uno spessore molto grosso e poi velocemente deve scendere verso la fine ed ecco quindi che ottengo delle linee di questo tipo su linee continue su un segno un tratto molto continuo questo profilo viene adattato all'intera curva e quindi come avete visto quando comincio a tracciare all'inizio questo è molto sottile poi siccome aggiungo delle linee la prima parte si sta spessendo sempre di più perché questo profilo viene assegnato all'intera linea quindi giocando con il profilo potete aggiungere dei punti cliccando dove non ci sono potete facilmente creare delle curve di profilo più interessanti per esempio una curva di profilo di questo tipo applicarla al segno curva e adesso quindi come vedete il segno diventa molto più interessante e posso quindi ottenere dei tratti più belli semplicemente andando a regolare quella curva lì ovviamente come vedete posso usarlo con tutti gli strumenti a mia disposizione ecco qui quindi ricordatevi che è molto utile questo thickness profile per dare maggior maggior verve al vostro segno ovviamente il raggio rimane quello che decide qual è lo spessore più alto del vostro segno ovviamente come vedete si può anche proseguire con dei segni successivi nel senso di sovrapporre più segni e mischiare comunque il tutto con anche dei segni fatti a mano perché no in alcune parti poi vedremo quali sono i modi per modificare dei segni e quindi per poter andare a modificare quello che si è già disegnato in questo momento non lo sto facendo per semplicità di questo video però è possibile farlo vi informo subito quindi non è necessario annullare ogni volta che abbiamo fatto un errore e la cosa carina è che questo thickness profile viene conservato da tutti gli strumenti che utilizzo per cui nel momento in cui cambio strumento rimane e mi è facile quindi continuare ad avere lo stesso stile di disegno per tutta la durata della sessione che sto facendo insomma qui in questo menu possiamo decidere in questi tool di resettare del tutto la curva con reset curve e farla tornare in quello che in questo caso non è lo stato iniziale lo stato iniziale che avevamo visto era questo comunque potete facilmente ripristinarlo e riavere il tipo di curva che avevamo all'inizio questi strumenti sono molto utili per fare un disegno più tecnico rispetto a quello precedente al metodo del disegno a mano e possono essere con lo strumento gomma anch'essi cancellati quindi come se li avessi disegnati a mano e anche qui ovviamente ho a disposizione eraser soft oppure eraser point e così via adesso faccio un po' di annulla fate attenzione a questa piccola cosa con la gomma si cancella anche la matita notate che anche il segno blu scompare perché è di un materiale diverso ma la gomma non si interessa ai materiali sta agendo su tutto quanto è molto facile in realtà quando avete finito di ripassare nascondere lo schizzo perché perché abbiamo usato un materiale apposta per lo schizzo di conseguenza è sufficiente elevare l'occhietto al materiale schizzo ed ecco che il vostro disegno contiene solo questo materiale black che tra l'altro essendo un materiale in qualsiasi momento potete sostituirlo con un colore diverso e cambiare del tutto colore al vostro segno e allo stesso modo abbiamo visto l'altra volta avremmo potuto decidere di realizzare alcune linee con il black altre in un altro modo quindi adesso per esempio abbiamo notato avendo usato questi strumenti potremmo ripristino un attimo lo schizzo potremmo volere utilizzare il materiale gray per dipingere in una parte adesso il materiale gray magari prendo lo strumento ink pen a mano e posso andare quindi con il materiale gray a riempire delle aree per fare delle ombre avete notato cosa succede? siccome la linea l'ho disegnata prima l'ombra in questo momento sta andando a sovrapporsi quindi se io traccio quest'ombra copro la linea ricordatevi l'abbiamo visto che questo tastino qua mi permette di disegnare dietro quindi in questo momento se disegno così disegno dietro ovviamente sto disegnando anche dietro allo schizzo comunque non è importante perché nel momento in cui adesso facciamo per esempio così ovviamente io non ho finito di riempire tutto quanto però anche se disegno dietro allo schizzo non è così importante perché in qualsiasi momento posso nascondere lo schizzo tra l'altro se state attenti con riempimento si può ottenere un bel effetto nel momento in cui date un alfa minore sì non allo stroke scusate ma al fill diamo un alfa minore e vedete i diversi riempimenti si sovrappongono tra di loro in questo caso stroke mi dà fastidio da vedere e quindi si potrebbe fare delle ombre successive che si sovrappongono una all'altra ottenendo degli effetti particolarmente carini ecco quindi che abbiamo fatto uno schizzo a matita l'abbiamo abbiamo disegnato delle linee e l'abbiamo e gli abbiamo anche messo delle ombre quindi con questi sono già strumenti che avevamo a disposizione nelle volte scorse qualcosa di nuovo che abbiamo imparato per esempio potremmo voler riempire le ruote come ultima cosa fare il nero ora se volessi riempire le ruote di nero ho bisogno di un materiale nero di riempimento prendo questo materiale grigio intanto creo un nuovo slot ho questo nuovo slot e posso scegliere il materiale grigio crearne una copia premendo su questo tasto o su questo e questo lo chiamo black fill e vado a cambiare il riempimento in nero con alfa pieno adesso ho il riempimento nero con lo strumento riempi posso cliccare su delle zone chiuse che voglio far diventare tutte nere potete notare che in alcuni casi lo strumento riempi sembra funzionare in modo strano si è riempito completamente a nullo ha ignorato l'interno anche se in realtà è chiuso perché? perché è concavo cioè diciamo la forma la forma di questo cerchio ha un buco all'interno in questo caso non funziona ci viene in aiuto un modificatore da tastiera che è il tasto alt che ci permette di tracciare delle linee temporaneamente che servono allo strumento fill se sono troppo grosse posso sempre venire qui e cambiare con lo strumento alt posso tracciare ho preso il materiale black fill adesso queste due zone non sono più come un buco in mezzo concave e quindi lo strumento fill torna a funzionare quindi attenzione a questa piccola caratteristica dello strumento fill se scoprite questo che vi riempie tutto quanto avete sempre a disposizione alt tracciate un piccolo segno per chiudere e riprovate quindi magari ecco come vedete funziona anche con materiali diversi ricordatevi che se vi prende per sbaglio tutta la zona che vi interessava avete sempre lo strumento alt e quindi può anche essere un modo molto facile col quale creare dei riempimenti anche se non li avevate previsti prima rimane un'ultima cosetta da vedere abbiamo visto lo strumento gomma in questo caso potremmo andare a cancellare qui eraser stroke e se io clicco qua cancella l'intero segno quindi non è quello che voglio in questo caso è meglio un eraser point e andare a cancellare i singoli punti della curva ecco adesso che ho cancellato posso prendere eraser stroke e cancellare quest'ultimo segno allo stesso modo di nuovo eraser point adesso è grosso premo F lo rimpicciolisco e posso andare a cancellare questi segni qua che avevo in mezzo e che mi davano fastidio quindi allo stesso modo qui ovviamente qua i punti sono pochi per cui se cancello questo viene via tutto quanto vedremo la prossima volta nelle prossime volte come modificare il segno già fatto per risolvere situazioni di questo tipo nel quale i punti sono pochi e semplicemente io più che cancellarlo vorrei semplicemente spostare questo anche questo cerchio è fuori centro vorrei magari semplicemente spostarlo è una cosa che vedremo in realtà c'è uno strumento che fa proprio il caso nostro che è questo qui lo strumento cutter che serve proprio a tagliare pezzi di geometria fino al punto in cui si intersecano con altri ovviamente dipende un po' dai segni che avete quindi potete con il cutter ottenere questo tagliare solo la parte che ci serve quindi per esempio se lo applico qui vedete viene tagliato fino al prossimo incrocio se lo faccio su quest'altro in questo caso non sta funzionando probabilmente esatto è questione di se ci sono o no punti nella zona in cui vado ad applicare il cutter comunque lo strumento cutter ha questo vantaggio è fatto apposta per tagliare fino all'incrocio successivo quindi una volta ottenuto questo posso prima fare con il cutter e poi eraser stroke e cancellare gli ultimi pezzettini che rimangono grazie mille e ci vediamo alla prossima lezione grazie mille grazie mille